Ciao a tutti ragazzi, sono Luchetto, anche oggi appuntamento con Monster Hunter Generation. Sono entrato in una stanza online di altri giocatori, perché per trovare altri giocatori è un po' difficile e si perde un po' di tempo. Vediamo se accettano la mia richiesta e andiamo. Oggi in missione cacciamo un Daimio Hermitauro, un grande paguro granchio. Siamo quasi pronti e si parte alla velocità della luce. Granchi, giganti, nemici, cliente, guerriero sconfitto. Detesto chiedere aiuto ai cacciatori, ma c'è un enorme Hermitauro sulle dune che proprio non vuole andare giù. Ho provato di tutto, ma non riesco a ferirlo. Mi serve che tu lo sconfiga. E noi siamo pronti, siamo fatti per questo, per cacciare i mostri grandi che danno fastidio. Allora, vai con la nostra bistecca, la palla pittura. Allora, vediamo, noi siamo qua, dobbiamo scendere giù, andiamo di qua, andiamo di là. Dove sta quello? Vabbè, andiamo nelle dune. Questo mi sa che stava sempre nel 3, infatti. È nel 3, devo fare tutto il giro, mannaggia a me. Facciamo tutto il giro, giro tondo. Allora, bevanda fresca. Ragazzi, aspettatemi che arrivo domani mattina per la pittura, l'hanno messa loro. Ok. Ragazzi, aspettatemi ancora, ancora tanto tempo, devo camminare nelle dune. E qui fa caldo, nelle dune. Ecco, ora, questi sono gli ermitauri piccoli, tipo paguri granchi. C'è daimio e quello grande. Andz, allora, online abbiamo Andz, Var e Carium. Abbiamo doppie lame, fucile, fucile che spara, fucile lancia. Non fucile lancia, vabbè, quel che spara, non mi ricordo. E poi io ho spadascia e un narco, sì. Ma che siamo arrivati senza resistenza. Eccolo qua, grande ragazzi. Adesso lo cavalco. E si cavalca. L'hanno già cavalcato, mi sa. Ah, ragazzi, l'armatura del Mitsuzune ha l'abilità bolle. Come potete vedere, sono ricoperto di bolle, schivo gli attacchi. E nel mostro avversario più facilmente. Dai che l'abbiamo montato, non l'abbiamo montato, vabbè. Mi sa che loro l'hanno già montato. Perché non riesco... Infatti, sa già uno che è uno stile aereo. E uno si monta, ragazzi. Ah, e l'ha montato lui, va buona. Facciamo montare agli altri, ragazzi. Allora, ci ricarichiamo la nostra spada. Ritorniamo al nostro stile di montaggio. Vediamo. L'ermita avrà anche debola al tuono, quindi ho messo l'ascia dell'Astalos. Si è rotto qualche cosa? Ok, la chila? Non so. Abbiamo anche l'arte pronta. Oh, si è rotto proprio tutto di dietro. Guardate, senza corno. Può smontare una volta io? No, eh? Ho messo anche l'armatura del Mitsuzune perché resiste molto all'acqua. E du fa questo oggetto d'acqua. E non la vuoi, può smontare io. No, eh? Questa è tutta la resistenza. Vabbè, facciamo la mega arte. E mi sa che, siccome non abbiamo la boccetta dell'ascia, non farà l'esplosione. Mamma mia, ragazzi. Quanti danni. E hanno fatto tutto l'oro. Io sono arrivato in ritardo. Non l'ho montato neanche una volta. E mi sento uno schifo. Mi sento una merdina, una piccola merdina. Non ho fatto niente. Vedi, ragazzi. Non ci siamo neanche curati. Anche perché schivavo con le bolle del Mitsuzune. Quindi se volete schivare, fate questa armatura. Vedi, hanno fatto tutto l'oro. Cioè, io saltavo per montare. Montavano gli altri. Però si è spaccato tutto la testa. Guardate un po'. È bello, è bello, è bello. Vedi, ragazzi. E questo è un mini, proprio mini, mini episodio. E in quattro è così. Ciao a tutti, ragazzi. Ah no, l'inchino, l'inchino. Ecco a voi. Alla prossima. E là. Faccio volare. Faccio volare. Oh, vola. Grazie a tutti. Grazie a tutti